buongiorno a tutti allora non è un tutorial anzi lo vedete dal titolo è un timelapse di come ho realizzato il simbolo dell'infinito ma vi dico comunque cosa ho usato allora io ho preso il filo su wires.co.uk e userò questo che chiamano gilton copper da un millimetro purtroppo non lo fanno di questo bellissimo colore che piace a me più spesso almeno quando l'ho comprato c'era solo questo e poi userò il sempre rame dorato questo che non c'è più su obi perline infatti no vabbè lo sto finendo comunque lo finisco e poi per dare la forma semplicemente una penna perché faremo se vi ricordate avevo fatto la collana faccio anche il braccialetto con lo stesso simbolo quindi io inizio vi metto una musichetta di sottofondo e ve lo lascio tutto in timelapse per vedere come ho fatto il braccialetto con lo stesso simbolo vi c'è più Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.